Apre finalmente la nuova palestra realizzata all'ex Cavallerizza Ducale, una struttura sportiva adiacente al Real Collegio che la provincia ha riqualificato con l'intenzione di destinarla all'utilizzo delle scuole del centro storico. L'inaugurazione si terrà il 9 gennaio prossimo al ritorno in classe dopo le vacanze natalizie. Dall'inizio di dicembre la ditta incaricata ha accelerato gli ultimi lavori che riguardano soprattutto la parte interna dell'immobile, la cui riqualificazione ha impegnato complessivamente risorse per oltre 2 milioni e mezzo di euro.